Pronto dottore? Oggi parliamo di dieta detox e come adottare un regime alimentare disintossicante per liberarci dal gonfiore e dei chili accumulati durante le feste natalizie. Lo facciamo con i consigli di un esperto nutrizionista, il dottor Lorenzo Traversetti. Allora professore ci spieghi che cos'è una dieta detox, in cosa consiste? Ma soprattutto quali sono gli alimenti e le bevande da prediligere? Allora un principio detox altro non è che un sistema nutrizionale per eliminare alcune tossine che abbiamo accumulato a fronte di alcune mangiate con minore controllo. Il primo alleato in tutto ciò sono le fibre alimentari, in particolare le fibre vegetali, quindi largo spazio a frutta e verdura, largo spazio a legumi o a cibi integrali, perché le fibre aiutano l'intestino a scegliere cosa assimilare e quindi portano ad assimilare il giusto eliminando quello che c'è di superfluo. Un ruolo molto importante lo hanno anche i grassi, non li dimentichiamo, perché esistono grassi buoni e grassi cattivi. E in particolare i grassi buoni giocano un ruolo molto importante nel dare al nostro corpo l'energia quando ci serve, riprendiamo il lavoro, riprendiamo le normali attività, allo stesso tempo aiutano anche a gestire tramite il fegato i grassi cattivi. Infine un ruolo molto importante è quello rappresentato dalle proteine, perché la proteina è un nutriente che per essere bruciato richiede molta energia. Quindi se noi assumiamo un pasto con la giusta quota di proteine, otteniamo un aiuto dal nostro intestino che bruciando le proteine, consentendoci di assimilarle, porta ad eliminare delle tossine che si sono accumulate nel tempo. Beviamo anche molto, perché anche l'acqua è molto utile, aiuta a veicolare tutto ciò che abbiamo nel nostro intestino verso l'esterno e quindi a pulire ulteriormente. Grazie dottor Lorenzo Traversetti, grazie per i suoi preziosi consigli.